Tra le ASL, Pugliesi è l'unico direttore generale che non ha presentato la domanda di idoneità per poter tornare a ricoprire questo ruolo. Valdo Mellone, attuale numero uno dell'azienda sanitaria leccese, aveva detto di non averlo fatto per motivi personali. A TR News Talk ha svelato che è venuto meno il rapporto di fiducia con l'allora assessore alla sanità Elena Gentile, lei che faceva ispezioni a sorpresa nelle strutture sanitarie e che stilava poi delle pagelle. Diciamo che in aprile quando scadeva il termine per la presentazione delle domande, io ci ho fatto un lungo pensiero e una lunga riflessione, però in realtà ho avvertito nettamente che si era incrinato questo rapporto fiduciario, anzi era venuto totalmente meno. Tra lei e Vendola? No, no, per carità, con il Presidente Vendola non ho mai avuto un dissidio che fosse neanche di una virgola o neanche mai un dissenso. Anche perché diciamo che il Presidente Vendola non ha avuto un appartamento delle persone sanitarie. Fiducia quindi assente da quando è stata nominata la Gentile? Diciamo che mi sono sentito vistosamente e marcatamente sfiduciato dall'assessore Gentile e da tutto il suo apparato. Quando si ricevono ispezioni burocratiche quasi ogni giorno su non nulla e queste ispezioni non sono precedute dalla fase di interlocuzione tra la Regione e i suoi manager, i suoi manager, allora non posso che tirarne una conclusione che il rapporto fiduciario si è incrinato e che siccome io sono un professionista, non un eremosiniere come ho avuto modo di dire, prendo atto di questo e scelgo altre strade. Mellone alla vigilia della fine del mandato ha anche parlato dei 347 tra medici e infermieri con i contratti in scadenza. Per la proroga servono 3 milioni di euro e uno spiraglio c'è. Lo sblocco all'utilizzo di questa somma potrebbe venire da una sorta di compensazione con la spesa delle altre asle pugliesi. E ancora per quanto riguarda la vicenda degli OSS e gli operatori sociosanitari, la graduatoria sta scorrendo e già da qualche giorno si stanno firmando i contratti di chi era in attesa di lavorare.